Collego? Vai, dai. Porca miseria, cos'è successo? Ho preso la scossa, Giacomo. Ma dove hai preso le lucine? Queste lucine qua sono del figlio di zio Svevo. Eh beh, cambiale, è ora. Sono ricordi di famiglia, sono affezionato. Sì, ma i ricordi uccidono, Giacomo. Esagerato, per una scossina. Chi c'è? È una carogna travestito da Babbo Natale. È arrivato Babbo Natale. Ha portato i regali per i bambini buoni. È tornato zio Svevo. Ulna, radio, metà carpo, l'altra metà del carpo. Che rimangono tre secondi per rimetterlo tutti insieme e poi levarti dalle palle. Svevo. 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 Svevo.